A Primolo maggioranza e minoranza scelgono la collaborazione, alle prossime elezioni andranno unite candidato sindaco l'attuale primo cittadino Omar Seghezzi. A Valbondione e Reti Paramassi per proteggere il borgo di Maslana, il sentiero che porta alle cascate, intervento anche per sistemare la valletta di Fiume Nero che negli ultimi anni ha causato allagamenti anche alle abitazioni. A Gazaniga una mostra dedicata ai mille vantaggi della lettura insieme ai bambini, un'attenzione particolare agli in-book, i libri con i simboli. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. In apertura la cronaca un operaio di Albino è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro ieri a Chignolo di Isola. L'episodio è accaduto poco prima delle 14.30 in un'azienda che opera nel settore dell'automotive. L'uomo 58 anni ha subito una compressione toracica per cause in via di accertamento. Subito soccorso dai colleghi è stato poi trasportato con un'ambulanza della Croce Rossa all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni sono definite serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Soccorsi in azione. Ieri sera a Clusone un uomo di 76 anni è stato investito poco dopo le 19 in via San Defendente nelle vicinanze dell'ingrocio con via Milano. Si tratta di Tiziano Zardo, una persona molto conosciuta nella cittadina dove lo si vede spesso camminare in compagnia del suo cagnolino spingendo un passeggino. Da quanto si è potuto sapere l'uomo stava procedendo sul margine della carreggiata quando è stato investito da un'auto di passaggio. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del corpo volontari Presolana che lo ha trasportato con codice giallo all'ospedale di Piario. Illeso il cagnolino che è tornato a casa da solo. Voltiamo pagina adesso una notizia che è giunta poco fa in redazione alle prossime elezioni amministrative del comune di Premolo. Il sindaco uscente Omar Seghezzi si presenterà a capo di una lista unificata composta da nomi e espressione sia dell'attuale maggioranza sia dell'attuale minoranza consigliare. Lo hanno comunicato con una nota congiunta i due capigruppo in consiglio comunale Marcello Seghezzi e Corrado Seghezzi. La scelta si legge nel comunicato rappresenta la naturale prosecuzione della politica di collaborazione e condivisione che ha guidato l'operato dell'intero consiglio nel corso di questi cinque anni. I capigruppo ringraziano il sindaco e i consiglieri che con il loro operato hanno permesso il raggiungimento di questo risultato senza dimenticare i cittadini che con il loro voto e la loro fiducia hanno permesso di intraprendere questa strada. E adesso a Valbondione dove sono in arrivo reti paramassi per proteggere il borgo di Maslana, il sentiero che porta le cascate. Intervento anche per sistemare la valletta di Fiume Nero che negli ultimi anni ha causato allagamenti anche alle abitazioni. Ne abbiamo parlato con la sindaca di Valbondione Sonia Simoncelli. A Valbondione si va verso la messa in sicurezza del borgo di Maslana. Ricordiamo negli anni scorsi dei massi si erano staccati dalla zona del pinnacolo di Maslana. Quali interventi verranno realizzati? Si è conclusa da poco la lunga procedura autorizzativa e nel mese di marzo, l'incirca metà marzo, inizieranno i lavori del posizionamento delle reti paramassi in località Piccinella, che ricordo è una località dove passa oltretutto il sentiero che conduce alle cascate e sono presenti delle baite importanti dal punto di vista anche storico e culturale del borgo. Quindi, dicevo, concluse tutte le procedure autorizzative e il lavoro è stato assegnato alla ditta Geomont per un importo di lavori di 50 mila Euro. Come verrà finanziato questo intervento? Ecco, verrà cofinanziato dal Parco delle Orobie, la comunità montana, i talcementi e nel Green Power e per 10 mila Euro anche il comune di Valbondione investirà su questa opera. Quanto dureranno i lavori? La previsione è che per fine del mese di marzo verranno conclusi. Altri lavori di messa in sicurezza riguardano poi la zona di Fiume Nero. Qui che cosa si sta andando a fare? Si sta andando a sistemare una valletta che per problemi di dissesto idrogeologico da qualche anno è iniziato a generare degli allegamenti della strada provinciale, oltre che dare problemi di allagamento alle abitazioni che sono site in prossimità. E questi lavori quando partiranno? Anche in questo caso quant'è l'importo e come sono finanziati? L'importo dei lavori è di 250 mila Euro e sono stati finanziati totalmente dalla regione Lombardia. Sono state ultimate anche qui le procedure autorizzative, aggiudicati i lavori da parte della centrale unica di committenza della provincia di Bergamo alla ditta Bergamelli. L'inizio dei lavori è prevista per la fine di questo mese, fine di mese di febbraio, avrà una durata di circa un paio di mesi. Durante le fasi di lavoro probabilmente ci sarà la necessità di limitare la viabilità provinciale proprio per permettere la conclusione di alcuni interventi. Ieri sera ci siamo occupati dello stop alle modifiche ai confini tra Fonteno e Riva di Solto deciso dalla regione. Abbiamo cercato di capirne di più, soprattutto di capire i motivi della bocciatura intervistando la Presidente della Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale, Alessandra Cappellari. Perché la regione ha preso questa decisione di dire no alla proposta dei comuni di Fonteno e Riva di Solto? La regione ha detto no dopo aver analizzato la documentazione che è pervenuta in Commissione, perché dalle documentazioni in atti è risultato che l'intento di questa rinitrazione voleva essere il superamento di problematiche che erano scaturite sul territorio per il fatto che un nucleo di famiglie tra 17 persone insistevano e risiedevano su una parte del territorio amministrativamente risultante comune di Riva di Solto, ma in realtà strettamente connesso e rientrante in una frazione del taxino che è di Fonteno e quindi nucleo e familiari serviti dal punto di vista dei vari servizi tipo scuola, bus, fornitura acqua, gas, rifiuti, raccolta rifiuti, spazzalute delle state serviti dal comune di Fonteno. I due comuni quindi volevano sistemare questa problematica e spostare i residenti direttamente sotto il comune di Fonteno. Cosa succede però? che nei fatti la perimetrazione che è stata proposta non comprendeva una parte del territorio su cui si steva e insiste tutto un albergo e altre case che sono sì oggi disabitate piuttosto che seconde case, ma che comunque domani impedisce che possano diventare appunto case abitate da altri residenti. Per cui la regione ha valutato tutto e ha deciso di non accogliere questa perimetrazione proprio perché questo non supera i problemi che si volevano superare. Perimetrazione che adesso dovranno poi riproporre perché la regione doveva esprimersi appunto su questa che è quella sulla quale si sono espressi i cittadini, i 30 persone, i 17 nuclei familiari. Loro hanno deciso sì a questa perimetrazione, quindi allo spostamento e noi non possiamo così autonomamente imporre un'alta perimetrazione perché vanno comunque sentiti i cittadini interessati che ad un'alta perimetrazione potrebbero ovviamente esprimersi in maniera diversa. E riguardo a questa notizia nel frattempo il sindaco di Fonteno Fabio Donda ha annunciato che nei prossimi giorni sarà presentato un ricorso al Tar contro appunto la decisione della regione. Cercheremo di approfondire nelle prossime edizioni del Tg. Proseguiamo con appunto il nostro telegiornale domani a Gandino alle 20.45 in Biblioteca una serata dal titolo Caduti e Dimenticati organizzata dalla Commissione Cultura del Comune e dedicata al naufragio del piroscafo Oria che nella notte fra l'11 e il 12 febbraio 1944 costò la vita ad oltre 4.000 soldati italiani. Si parlerà anche del gandinese Antonio Nodari grazie alla verifica di archivi e documenti d'epoca si è stabilito che anche lui era a bordo dell'Oria. Sentiamo. Nei giorni scorsi il 75esimo anniversario del naufragio del piroscafo Oria. A Gandino avete voluto organizzare una serata proprio per raccontare questo episodio per tanti anni rimasto praticamente sconosciuto. Sì la serata non a caso si intitola Caduti e Dimenticati. Il naufragio del piroscafo Oria è un episodio sostanzialmente sconosciuto e più avvenuto nel corso della seconda guerra mondiale esattamente nella notte fra l'11 e il 12 febbraio del 1944 nel mare Geo e rappresenta probabilmente la più grave tragedia navale della storia nel mar Mediterraneo. La serata di Gandino come si svolgerà? La serata di Gandino è imperniata su una pubblicazione fatta di recente da Luciano Quagliati che è il bibliotecario di Brusaporto in provincia di Bergamo che ha avuto a cuore la storia del piroscafo Oria. Ha cominciato a raccontarla soprattutto per la conoscenza con Lorenzo Messi, omonimo di uno dei dispersi e nipote che cercava notizie proprio dello zio caduto e ha allargato la propria ricerca il signor Quagliati anche a tutto il lavoro che è sottoscritto negli anni e sviluppato attraverso la redazione dell'Eco di Bergamo con una serie di articoli legati proprio, se vogliamo, un episodio anche fortuito in cui un reduce di Cerete, il signor Giulio Bocassini, segnalò la sua presenza nella lista degli imbarcati del piroscafo ma per fortuna sua non era disperso ma era vivo e vegeto a Cerete. Questo avvenne nel 2013 e quindi negli ultimi sei anni abbiamo poi sviluppato un lavoro di ricerca che ha portato a identificare la storia di una cinquantina di militari bergamaschi. C'è stato anche il bellissimo lavoro di un pensionato di Avellino residente a Pistoia che ha codificato tutti i 4.000 possibili dispersi incrociando vari dati d'archivio e creando un file suddiviso per province e addirittura comune di residenza che sta aiutando molto nelle ricerche. Questa serie di articoli ha portato a scoprire storie incredibili, una storia arrivata anche in Alta Valle Seriana e la racconteremo nella serata di Gandino a Fino del Monte dove la famiglia Bellini ha ricevuto quella che era la gavetta con inciso il nome e i riferimenti del proprio prozio Francesco Bellini, una famiglia molto toccata dagli eventi di guerra con numerosi caduti non solo nella seconda guerra mondiale ma anche nel primo conflitto. E poi soprattutto a Gandino ci soffermeremo in particolare sulla storia di Antonio Nodari, uno dei dispersi del Piroscafuoria che morì nel 1944, un soldato, un giovane che era rimasto orfano di padre alla sola età di 4 anni e che era poi partito comunque per il servizio militare ed era finito purtroppo sull'isola di Rodi e fu imbarcato sul tragico Piroscafu. Una storia assolutamente particolare che segna anche un po' quella che è stata la grandissima tragedia anche popolare di quei tempi perché nel frattempo mentre Antonio Nodari nel 1944 moriva nel naufragio del Piroscafuoria, la famiglia, la madre Maria Chiara Carnazzi e il patrigno di fatto che era anche lo zio perché era fratello del padre morto di Antonio che era Francesco Lorenzo Nodari, in quel periodo ospitarono a Gandino una famiglia ebrea, la famiglia di Mariem Löwi con i figli Marina e Sigel e questo fece meritare alla famiglia Nodari nel 2005 il titolo di Giusta fra le Nazioni insieme ad altri quattro gandinesi. Quindi racconteremo questa storia, avremo probabilmente con noi anche Salvatore Criniti che è dell'Associazione dei Familiari una delle anime, colui che cura il sito internet, colui che cura la pagina Facebook e mette in contatto tante famiglie e avremo modo di poter raccontare con il signor Luciano Quagliati quell'episodio che davvero rimane sconosciuto di più. Dove e quando ricordiamo? La serata si svolge giovedì 21 febbraio, è organizzata dalla Commissione Cultura del Comune di Gandino nell'ambito dei giovedì culturali che vedono anche incontri con gli autori e si tiene nel Salone Biblioteca della Biblioteca Comunale. Ci fermiamo adesso per una pausa, il nostro Tg continua tra poco. Riprendiamo con il telegiornale, leggere insieme ai bambini sin da piccolissimi è molto importante. I vantaggi sono innumerevoli come mette in luce anche la mostra allestita in questi giorni a Gazzaniga, siamo andati a visitarla. Leggere insieme mille vantaggi è il titolo della mostra che è allestita in questi giorni nella sala civica di Gazzaniga, lo resterà fino a sabato 23 febbraio. Che cosa c'è dentro questa mostra? La mostra ripercorre quello che è stato un po' il passaggio che ha visto la nascita di dei libri molto speciali, questi libri per tutti che sono comunque poi ospitati all'interno della mostra dove sono stati creati dei banchetti che diciamo così mettono un po' in risalto tutte le diverse tipologie di libri, sto parlando degli in book, che sono dei libri che permettono l'accessibilità alla lettura da parte di tutti. Leggere ad alta voce, leggere con i bambini è un'attività fondamentale, come dice anche il titolo della mostra parla di mille vantaggi e in effetti i vantaggi sono moltissimi e quindi è quanto mai indispensabile che in questi vantaggi possano ricadere anche tutti quei bambini che per diverse ragioni non possono avere accesso libero alla lettura perché magari affetti da una disabilità nella comunicazione o perché non hanno una padronanza della lingua che permette loro di potervi accedere semplicemente appunto come linguaggio verbale. Gli in book sono dei testi che sono stati integralmente tradotti in simboli e che quindi permettono un accostamento al contenuto del libro appoggiandosi come significato che rende ancora più esplicito il contenuto delle parole al simbolo che in qualche modo illustra, spiega meglio in maniera molto più efficace di quanto non faccia la parola il significato della parola stessa. Leggere è un'attività fondamentale, bisognerebbe iniziare a farlo il prima possibile, il più precocemente possibile perché ha delle ricadute enormi su tantissimi livelli, sicuramente sul piano della relazione perché si legge con e non si legge a, quindi riuscire a creare, a instaurare un rapporto attraverso la lettura e in questo il libro è un efficacissimo strumento di comunicazione, permette di rinsaldare la relazione, per esempio tra genitore e bambino, quindi il consiglio che do è quello di leggere il più possibile, quanto più riusciate a farlo con i vostri bambini. Inserite la pratica della lettura in una routine quotidiana al pari di qualsiasi altra attività che si svolga durante il giorno perché in questo modo, solo in questo modo si vedranno poi dei benefici, benefici che ovviamente non sono solo sul piano della relazione ma sono per esempio sul piano, diciamo così, linguistico, delle competenze linguistiche. I bambini ai quali si inizia a leggere molto precocemente sono dei bambini che apprendono con molta più facilità a parlare e che parlano poi anche utilizzando un linguaggio molto più vario perché i libri, non dimentichiamolo, contengono parole e quindi sono più esposti a un numero di parole molto più rispetto a dei bambini con i quali si legge poco e anche purtroppo si parla poco. Le ricadute non sono solo queste, sono anche proprio sul piano delle competenze sociali del bambino perché i libri contengono delle storie, contengono delle situazioni alle quali magari i bambini non sono ancora stati esposti e questo permette loro di fare dei collegamenti con l'esterno. Il libro è un po' qualcosa che prepara alla vita i bambini e quindi bisogna iniziare assolutamente a leggere il prima possibile, non è mai troppo presto per iniziare a leggere. Ci occupiamo adesso della sezione Valle Seriana dell'Associazione Nazionale Paracadutisti che nei giorni scorsi ha rinnovato il proprio direttivo. Come presidente per il prossimo triennio è stato confermato Alberto Benzoni e lo abbiamo intervistato. Avete parzialmente rinnovato il consiglio direttivo? Esatto, ci siamo ritrovati sabato 9 febbraio presso la sala del Centro Culturale Testori di Vertola come nostra consuetudine, oltre che per l'Assemblea Ordinaria anche per rieleggere il consiglio direttivo che guiderà la sezione Valle Seriana dell'Associazione Paracadutisti d'Italia per il prossimo triennio 2019-2021. Il rinnovo ha sostanzialmente consolidato quello che era il consiglio direttivo passato con l'integrazione di due nuove figure estremamente valide che si sono aggiunti in questi ultimi anni al già nutrito gruppo di paracadutisti della Valle. I nostri programmi bene o male in occasione di questa Assemblea abbiamo riepilogato quello che abbiamo fatto in questi tre anni dopo un primo periodo di tentennamenti legati ad alcuni problemi interni siamo partiti, siamo decollati come si suol dire. Abbiamo in questi tre anni brevettato nove nuovi paracadutisti, alcuni dei quali stanno militando attualmente sia nelle forze dell'ordine dell'esercito, sia nelle forze dell'ordine come carabinieri, sia nell'esercito, per cui andiamo particolarmente orgogliosi di questo obiettivo raggiunto e in più abbiamo seguito numerose cerimonie e raduni della nostra associazione paracadutisti. Adesso stiamo scaldando i motori perché abbiamo di fronte un'attività molto intensa, stiamo studiando alcune manifestazioni qua in Valle Seriana sia alta che media che in Val di Scalve e che avranno un po' diciamo un'incubazione media di un paio di mesi dopodiché potremo uscire allo scoperto con queste novità. Una piccola precisazione, già solo nel 2019 abbiamo ad oggi 11 nuovi iscritti, alcuni dei quali sono paracadutisti della Folgore, altri invece sono dei ragazzi che si sono iscritti al corso di paracadutismo che avrà inizio i primi giorni del mese di marzo. Novità assoluta in collaborazione anche con la sezione di Bergamo con la quale stiamo dialogando molto bene. Allora concedetemi i ringraziamenti al tutto il direttivo e anche l'augurio di buon lavoro ai nuovi componenti che sono oltre al sottoscritto come presidente il vicepresidente Davide Bressan, il segretario Gian Antonio Filisetti, l'economo Rossano Lorenzi, il vice segretario Walter Marzupio, il direttore tecnico Gabriele Fanchina, il coadiutore Aldo Zanchi, non dovrei aver dimenticato nessuno. A questi si aggiungono i già consolidati, si aggiungono Maurizio Marcis come responsabile del patrimonio e Alessandro Re come responsabile della propaganda. E ora l'appuntamento con la rubrica Racconti di ieri. Mino Scandella ci accompagna alla scoperta dell'arte e della storia del nostro territorio. Continuiamo ad occuparci della chiesa parrocchiale di Fino del Monte e questa sera in modo particolare parliamo dell'altare principale. È un altare direi particolare che ha subito diversi rifacimenti. è un altare in cui prevale la dimensione orizzontale, su quella verticale, è naturalmente in marmo, bianco, rosato, nero ed è della bottega probabilmente di Andrea Fantoni intorno al 1680-1690 che ha incorporato la parte più antica dell'inizio del 1600. ai lati, come capita spesso negli attari fantoni anni, due angeli adoranti e una serie di piccoli angeli in medaglioni di marmo di Carrara intorno. La parte più importante dell'altare, oltre alla mensa naturalmente, è il tabernacolo. sono i due rilievi, due medaglioni in marmo di Carrara, molto belli e significativi, uno che rappresenta la chiamata di Andrea sul lago Tiberiade e l'altro l'incontro con Gesù. L'altare fantoniano, che già aveva incorporato la parte più vecchia, viene nel 1907 rimodificato per essere adattato alla nuova chiesa, che aveva un presbiterio più ridotto e più piccolo. Nel 1942 lo sbalciatore chiusonese Tidionani lavora alla Portella, in argento, in rame, nel tabernacolo, dove c'era scritta Tu es sacerdos in eternum, secondo mordi del Melchise, con il significato eucaristico, naturalmente. Nel 1972 un altro intervento viene tolta alla tribuna l'isposizione eucaristica, ritenuta non congola al nuovo corso liturgico. e nel 2013 lo scultore Angelo Fonnoni pone il Cristo Redentore in marmo bianco sopra il tabernacolo. Naturalmente, dopo il 1972, il complesso del piccolo presbiterio viene dotato di una nuova mensa, in marmo rosato di zandoppio e di macchia vecchia, marmo di arzo, breccia di arzo, ed è particolarmente semplice, ma significativo e armonico rispetto all'altare vecchio. Ricordiamo anche che nel piccolo presbiterio è posto il crocefisso fantoniano, probabilmente della bottega di Andrea, probabilmente di Giambettino, semplice, lineare, ma molto significativo. e io pensavo addirittura fosse più antico rispetto alla bottega di Andrea, ma questo dicono gli esperti. E adesso una breve pausa e poi la parte finale del Tg. Verso la fine del nostro telegiornale con i programmi di Antenna 2, iniziamo dal canale principale, questa sera alle 20.10, l'Alpino, il notiziario a cura dell'Associazione Nazionale Alpini. Alle 20.30 un nuovo appuntamento con Decoder, l'approfondimento condotto da Andrea Filisetti, due i temi di questa puntata, andremo sulle tracce dei minatori in Australia e poi conosceremo l'attività degli alpini paracarutisti. Alle 21.30 la rubrica di Sport Invernali Ski Magazine, alle 22 più Salute News, alle 22.30 la seconda edizione del telegiornale, alle 23.15 Antenna 2 Sport. Il canale News 218 propone invece alle 21.30 il telegiornale e alle 22.10 l'anteprima Target, questa sera un servizio sui nuovi progetti di GECO, società che, lo ricordiamo, si occupa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti anche su diversi comuni del nostro territorio. Il canale sportivo 628, alle 20.30 la partita di calcio Falco-Nuova-Valcavallina, alle 22.30 un'altra partita pradanunghese-coloniese. L'Almanacco domani è giovedì 21 febbraio, il sole sorge alle 7.08 e tramonta alle 17.59, la luna è in fase calante, sorge alle 20.21 tramonta alle 9.02 di venerdì. E chiudiamo con le previsioni del tempo, domani su Alpi e Prealpi Lombarde, cielo poco nuvoloso o velato, dal pomeriggio maggiore copertura per il passaggio di nuvole alte. Temperature in aumento. E con il meteo è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie a tutti.